Un fiume d'acqua a lungo Corso De Michetti. Per la rottura di una importante condotta, una condotta principale del Ruzzo durante dei lavori in corso, proprio all'angolo tra Corso Cerulli e Largo Melatini, durante questi lavori una rottura accidentale di un pozzetto antincendio ha fatto zampillare un grosso fiotto d'acqua che poi ha invaso tutta la sede stradale del Corso Vecchio di Teramo. Sul posto subito, oltre ai tecnici che erano impegnati agli operai, che erano impegnati nel lavoro, altri tecnici del Ruzzo Reti insieme ad operai e personale del Comune di Teramo per capire come intervenire immediatamente per risolvere la situazione. Durante i lavori della condotta da parte del Ruzzo c'è stata una rottura di una grossa condotta con questa importante perdita d'acqua e adesso abbiamo chiuso l'acqua perché comunque era una condotta abbastanza importante con una grossa portata e stiamo aspettando tutte le valutazioni tecniche da parte degli uffici del Ruzzo Reti sia per il ripristino che per la chiusura di questa situazione incresciosa che è avvenuta oggi ma che può accadere comunque in un'attività lavorativa. In Largo Melatino è in corso da giorni un intervento della Ruzzo Reti per la sostituzione delle condotte idriche e fognarie. Lavori che precedono quelli che il Comune effettuerà per il rifacimento della pavimentazione finanziati con fondi PNR Sisma nell'ambito del progetto di riqualificazione delle traverse laterali di Corso San Giorgio, Corso De Michetti e Corso Cerulli. Dopo circa due ore i tecnici del Ruzzo hanno riparato la rottura e ripristinato il flusso d'acqua per le utenze della zona riportando la situazione alla normalità.